Difficile campo dell'Ascoli, ma i biancoverdi ci hanno sempre creduto. Al novantesimo è arrivata la rete pesante di Giuseppe Mascara. Torna a volare il fongerlo obiettivo dei play-off. In caso di successo finale, i biancoverdi conquisterebbero una grande vetrina che potrebbe spalancare a tutti loro delle porte su un futuro importante, sotto il profilo professionale. Tutti i ragazzi di Ammazzalosso lo sanno bene e in ogni gara sono sempre motivati a far bene, grazie anche alla diretta TV.